LIEVITO NEL SACCO Io sono Andrea Rigiglio, chef pasticcere, professionista del 2004 specializzato in pasticceria. Attraverso i miei videocorsi aiuto appassionati, aspiranti pasticceri e professionisti a diventare molto più abili in pasticceria. Infatti mi sono preso il compito di creare videocorsi anche per chi parte da zero o per tutte le persone che voglio diventare capaci come un pasticcere professionista. Qui sotto trovi il link in descrizione per iscriverti direttamente ai miei percorsi e c'è anche il tasto per parlare con la mia assistenza per qualsiasi domanda, dubbio, propensità o per capire qual è il percorso più adatto a te. Abbiamo vari percorsi, pasticceria di base, pasticceria levitata, pasticceria da forno, pasticceria classica e moderna. Insomma si può vedere dai piccoli ai grandi lievitati, le torte, le monoporzioni, i mignon, le torte da forno, le crostate, i cake, la biscotteria. Tutte le basi, insomma, dei percorsi che ti rendono padrone di una materia e non più schiavo di una ricetta. In questa lezione vediamo il lievito madre tenuto legato o metodo milanese, quindi nel sacco. Questo è il classico lievito da lievitista. Chi è un lievitista? Perché pasticceria dice pasticcere, ma ci sono persone specializzate che sono solo sui lieviti, si chiamano lievitisti. Un lievitista è una persona capace, preparata sul lievito, sia lievito madre che lievito di birra, quindi è una persona che sa gestire gli impasti. Come spiego nel corso pasticceria lievitata che trovi in descrizione, il lievito madre nel sacco è il più antico, è quello che è stato usato, che poi ha reso famoso il panettone in tutto il mondo. Il lievito nel sacco, facciamo finta che l'abbiamo già fatto partire, quindi abbiamo il nostro composto di acqua e farina. Sono passati i 30 giorni, quindi abbiamo già rinfrescato quotidianamente, abbiamo creato questa pasta acida ricchi di batteri e di lieviti e viene conservato all'interno di un torcione, di un sacco di juta, di una pellicola con una corda. Insomma, viene tenuto questi salamini molto compressi e ha delle caratteristiche particolari. Come ho detto nel video delle introduzioni, ogni tipo di lievito madre ha la sua peculiarità. Quindi, lievito madre abbiamo visto tenuto in acqua, ha la caratteristica che sta a mollo nell'acqua la sera, quindi l'acidità la perde nell'acqua. Abbiamo visto lievito madre tenuto libero, che quindi utilizza un processo con ossigeno, quindi ha un microbiota diverso e poi viene tenuto in un contenitore, quindi l'acidità lattica non si disperde nell'acqua ma sta nel contenitore, questo ha un microbiota ancora diverso. Cioè, cosa vuol dire? L'acidità lattica, che viene prodotta dai batteri lattici all'interno del lievito madre del sacco, resta nel sacco. Infatti è il lievito del lievitista. È un po' più complicato, no, da gestire, ma è un po' più... bisogna essere militari, concentrati, attenti. Perché è il lievito che bisogna saperlo gestire, in quanto l'acidità rimanendo all'interno del sacco ne produce di più, non si disperde, ed è quella che poi può dare dei problemi. Ad esempio, un eccesso di acidità lattica può dare anche un blocco dell'impasto, quindi l'impasto non lievita più, soprattutto il secondo impasto. Un eccesso di acidità lattica può dare sgradevoli sapori amari, un eccesso di acidità lattica può non fare incorporare i grassi all'interno dell'impasto, un eccesso di acidità lattica dà dei gusti strani, quindi è importante che l'acidità sia in modo corretto. E vediamo come si gestisce il lievito madre del sacco. Generalmente l'idratazione del lievito madre del sacco si va di media al 50%, quindi vuol dire, ad esempio, uno di lievito, tendenzialmente i rinfreschi in questo modo qui, soprattutto il primo rinfresco, si fa uno a due o uno a tre, più farina per tamponare, perché la farina è un effetto tampone, quindi uno di lievito che viene dalla notte, si prende il centro, si rinfresca con più farina rispetto ad esempio al lievito madre tenuto in acqua, perché la farina è un effetto tampone, quindi più farina mettete, più basificate l'impasto, calmate un po' gli animi. Il lievito nel sacco quindi si fa, generalmente il riposo notturno è sempre 16-18 ore, in una cantinetta tipo vini sarebbe l'ideale. La mattina si trova più acido, ovviamente, di un lievito tenuto ad esempio in acqua, si rinfresca uno a due, uno a tre, si fa il rinfresco il 45-50% di idratazione. Poi se bisogna utilizzarlo, va fatto sviluppare due volte e mezza fino al triplico, dipende che dal lievito che volete voi, c'è chi lo porta al raddoppio, c'è chi lo porta due volte e mezzo, due volte e sei, due volte e sei, al triplico. Poi nel corso pasticcere di Tata spiego bene anche le differenze, ci sono tutte le varie fasi, bisogna conoscere per scegliere. E una volta che è fatto sviluppare lo si può mettere negli impasti, i lievitisti hanno sempre fatto tre rinfreschi con l'impasto serale, si parte col panettone, oggi c'è la tendenza a farne due, anche uno se si aumenta la farina nel primo impasto. Quindi di giorno lavora e di sera deve riposare. Le caratteristiche di un lievito legato è che anche questa pressione, che può arrivare a 6-7-8 bar, quindi una pressione molto alta, molto forte, tende ad avere una vitalità dei batteri, dei lieviti abbastanza, diciamo, dico io, gagliarda. C'è una vitalità molto pronunciata, è un lievito che spinge molto bene, che dà dei ottimi profumi e gusto, è solamente la, non la difficoltà, l'attenzione nei rinfreschi. Bisogna rinfrescarlo in maniera militare, bisogna assaggiarlo, come ho già spiegato nel lievito madre in acqua, il lievito madre nel sacco deve avere, Il lievito madre in generale deve avere alveoli tondi, leggermente allungati, color avorio tendente all'olcra, un gusto leggermente acidulo, un po' alcolico, ma non deve essere acido, come se fosse, diciamo, parmigiano, che sa di formaggio andata male, non parmigiano, formaggio andata male, quindi acido butirrico andata male. Non deve essere giallo, perché sta andando male. Non deve essere neanche troppo grigio, perché vuol dire che all'interno ha troppe sostanze che a lui non sono utili. Non deve essere bianco e con alveoli piccoli, perché sennò è troppo debole, quindi deve avere alveoli tondi, leggermente allungati, sapore acidulo, un odore leggermente alcolico. Non deve essere amaro, perché sennò è cesso di acidità lattica e deve il suo volume, cioè è importante vedere lo sviluppo. Diciamo che un lievito deve sviluppare due volte e mezzo o fino al triplico in 3-4 ore, ok? Troverete maestri che lo portano al raddoppio, si può fare certamente, si chiama lievito un po' più giovane, due volte e mezzo è la scuola che sta insegnando adesso, due volte 6, due volte 7, o il triplico la vecchia scuola. Ovviamente ogni volta che voi lo portate a uno sviluppo maggiore, quindi fino al triplico, diventa un lievito un po' più acido, possiamo dire un po' più forte, ok? Preso a raddoppio due volte e mezzo è meno acido, ovviamente. Ma le cose nel tempo si sono fatte perché si è tramandato, oggi per fortuna la scienza ci viene a disposizione, possiamo anche capire il perché delle cose. Il lievito milanese è un lievito che quindi ha bisogno di attenzione, l'effetto tampone della farina, soprattutto nel primone in fresco, va aumentata, è un ottimo lievito che spinge molto bene, è un lievito che dà gusto, profumo, aroma, è il lievito del lievitista. Ecco, in questo caso, a differenza del lievito, ad esempio, in acqua, qui il bagnetto è raccomandato. Generalmente si consiglia tutti i giorni di fare il bagnetto, è sempre raccomandato di fare il bagnetto tutti i giorni al lievito. Beh, in questo caso, dico, non bisogna fare per forza un bagnetto a un lievito madre in acqua, perché già viene dall'acqua, facciamo un altro bagno, quindi ha poco senso. Mentre invece ha senso in un lievito madre nel sacco, o anche libero, che è più nel sacco, perché? Perché ovviamente l'acidità, soprattutto la lattica, è all'interno ed è quella che se in eccesso abbiamo visto da dei problemi, quindi ovviamente facendo un bagnetto, togliamo l'impurità, basifichiamo, calmiamo gli animi e quindi tamponiamo con più farina, diciamo addolciamo il lievito, lo puliamo, lo basifichiamo. Quindi il bagnetto la mattina fatto con acqua e zucchero, acqua e un cucchiaino di zucchero, acqua e fruttosio, siccome lo zucchero va sul fondo ma non va sciolto, i batteri, i patogeni vanno sul fondo e vanno a prendere lo zucchero, in più l'acqua dà un effetto di pulizia, lo zucchero, il fruttosio, ossigena l'acqua e quindi abbiamo questo effetto di pulizia del lievito. E poi si può prendere, prima si taglia fette ovviamente, poi si prende, si strizza, si mette la farina, la percentuale di acqua e si lavora. Le percentuali di acqua, come ho detto, sono da un 45-50% idratazione, le percentuali di farina, naturalmente più farina che se usiamo il lievito madre, metodo piemontese, perché ovviamente qui l'acidità in eccesso va tamponata con la farina, le temperature, temperature e stazionamento notturno 16-18 gradi, se invece bisogna farlo sviluppare, metto in una caraffa, ovviamente consiglio dai 24 ai 30 gradi, ok? Deve sviluppare in 3-4 ore, massimo portarlo al triplico, generalmente 2 volte e mezzo è più che sufficiente. Questo era un po' sul lievito madre tenuto nel sacco, ho già fatto video sul lievito madre tenuto libero, in acqua, faremo il video sul licoli e l'introduzione dei lieviti. Ad ogni modo, qui sotto trovi il link in descrizione, se ti interessa questo argomento c'è il corso Pasticceria lievitata, dove ti insegno proprio tutto sul lievito madre, ti insegno piccoli e grandi lievitati, quindi sia cornetti, croissant, brioche, panettone, colomba, danesi, la pasta brioche, le bresciane, le sfogliatine, quindi tutto quello che c'è da sapere sulla pasta lievitata. Ti saluto per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo video.